A Milano? Ah buongiorno, è il tempo di arrivare! Ma ci vanno a Milano? Come ci vai a Milano? Col motorino, va! C'è una sola pizza con l'anima napoletana che è già a casa tua. È Buitoni Bella Napoli. Ingredienti semplici e naturali. Le stesse cose buone che useresti tu. Che bella pizza! Noi l'abbiamo ordinata. Chissà quando arriva. Volete favorire una Bella Napoli? Arriviamo! Buitoni, l'abitudine di cambiare. Grazie a tutti.